Visto l'argomento non può certo parlarsi di successo, ma senza dubbio i due casi di violenza interfamiliare che altrettante donne di Pagania hanno segnalato al cittadino sportello dell'Associazione Matrimonialisti Italiani danno un senso all'impegno dell'AMI. Il presidente della sezione agro, Alba De Felice, sottolinea come l'importante sia gettare un seme, offrire alle donne un punto di riferimento e il resto verrà da sé. Nei giorni scorsi l'AMI ha provveduto alla stipula di un protocollo d'intesa con il piano di zona Salerno 1, una convenzione finalizzata ad attuare una rete di sportelli non solo per la ricezione di segnalazioni o denunce, ma anche per l'orientamento, il supporto e l'interscambio di esperienze. Questa mattina mi è pervenuta una segnalazione molto molto particolare, violenza patita da una donna del comune di Pagani ed è una cosa che realmente mi ha fatto riflettere su quanto ciò che si fa non è mai abbastanza. Bisogna essere sempre compatti a favore delle donne e dei minori, soprattutto bisogna lottare l'omertà, il silenzio colpivole.